Dunque, Assessore, un progetto che punta sull'educazione nelle scuole per favorire una corretta differenziata, insomma, guardando anche all'ambiente e alla valorizzazione del nostro territorio, in qualche modo? Assolutamente sì, dobbiamo ringraziare a questo punto anche ASM del gran lavoro che sta facendo di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi, i quali stanno dimostrando grandissima sensibilità al tema, non è ormai una novità, grazie a Dio è una conferma, e con attività come queste le istituzioni mettono a disposizione strumenti, idee, stimoli ai ragazzi proprio per dimostrare la propria propensione a quello che è un bene comune, che interessa a tutti e quindi il fatto che ci siano proprio i ragazzi ad essere sensibilizzati, a dare delle risposte concrete, beh, deve essere di soddisfazione per tutti quanti noi, a partire dall'amministrazione, passando da ASM, che è stato stimolo e motore per questo progetto, che sta dando anche in questa continuazione dei risultati assolutamente di soddisfazione. Quindi Presidente, c'entra la differenza, un progetto fortemente voluto dalla Comunità di Pavia e da ASM, volevo chiederle dei contenuti di questo progetto educativo. Certo, è il secondo anno che proponiamo questa iniziativa, è un'iniziativa che l'anno scorso ha avuto un ottimo esito, con un successo importante non soltanto relativamente al componente dirigenziale degli istituti che andiamo a interessare, ma soprattutto ai bambini. A noi interessa entrare all'interno delle famiglie attraverso i bambini, perché questo ci consente di veicolare dei messaggi che non possono essere veicolate esclusivamente attraverso la sanzione, quando si arriva a delle irregolarità nella gestione della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti. Quest'anno interveniamo sulle scuole primarie, ma anche su quelle secondarie. Sulle primarie implementando quella che è la divulgazione, in particolar modo specificamente sulla plastica, quindi tutte le tematiche legate all'importanza che ha avuto la plastica in questo secolo e però anche a quelli che sono i problemi legati allo smaltimento e al recupero della plastica. E sulle scuole secondarie invece implementiamo quella che è la comunicazione attraverso un focus sul decoro. In particolar modo chiediamo alle scuole di coinvolgere i ragazzi direttamente nella pulizia di alcune parti della città, o comunque naturalmente non a livello operativo analogamente a quanto fatto dagli operatori di SM, ma di intervenire insieme agli operatori di SM per capire come funziona il sistema di pulizia e di presidio del decoro della città. Centra la differenziata è un progetto che punta sulla diligenza, il senso civico e anche la creatività dei ragazzi. Sì, questo è un altro punto fondamentale per cui cosa fare per quanto riguarda quello che è il discorso rifiuti che può essere utilizzato e può diventare anche un'opera artistica. Quindi da lì un discorso di creatività insieme a formazione, informazione e decoro urbano. Quindi linea fondamentale per quanto riguarda una città che si vuole distinguere rispetto a tutto il resto.